Scientistica per migliorare l'estetica delle moto e non solo con Barracuda. Bisogna parlare anche di Barracuda perché naturalmente c'è un grande feeling con le due ruote, Barracuda è indispensabile anche per arricchire e abbellire un mezzo. Sì, questo è il nostro lavoro, ci piace tanto farlo, speriamo di poterlo far bene per accontentare le richieste di mercato. Al salone noi presentiamo dei buoni e ottimi contenuti nuovi, promuoviamo il nostro buon Italian Design in questo momento di mercato dove il prodotto globale è un po' piatto, noi proviamo a distinguerci. Siamo qua, abbiamo un buon riscontro, c'è un sacco di visitatori, siamo molto contenti della presenza di questo pubblico ancora con una passione incredibile. Noi ci mettiamo del nostro, noi siamo guidati dalla passione, quindi proviamo a fare il nostro lavoro bene, forse ci riusciamo anche perché comunque abbiamo un buon risultato sul mercato. Poi sempre qui in Barracuda parlavate anche di calendario. Sì, il calendario è un prodotto che noi facciamo già da quattro anni, appartiene alla nostra filosofia di fare un buon lavoro. Siamo contenti quest'anno di avere Vera, è una ragazza russa, simpaticissima, veramente, a noi piace tanto, spero piace anche a voi. Vuoi dire qualcosa, Vera? Sì, è un gran piacere essere in Italia e mi piace molto lavorare con Barracuda. Italiano perfetto. Grazie mille. Grazie.